Scusa se ho detto quelle cose Tu lo sai quanto ti amo, vero? E' tu l'idea Sono una tua fan Tu sei l'amministratore delegato Che ha acquistato due prostitute Ma che ieri è stato assolto Mettimi giù Trasferisco il 20% del tuo contante A quelle due ragazze Ora chiamo la sicurezza Il resto lo trasferisco a tua moglie Numero di conto Non darglielo 54912 Prendi tuo figlio e vattene Non ti farà più del male Ma chi sei? Tu non sei Lisbeth Salander Lisbeth la giustiziera Non ho mai capito una cosa Perché hai aiutato tutti Tranne me Perché Lisbeth? Perché il ragno non resta intrappolato nella sua tela? No Grazie a tutti.